Ci fermiamo qui, chiudiamo il telegiornale, le notizie sono finite Ah, dobbiamo proprio farlo? Vabbè, facciamolo, c'è lo studio con Luca Franchini Se dobbiamo proprio farlo, allora Luca Franchini e il wrestling, benvenuto Sì, benvenuto, cioè tu mi accogli in questo modo Angelo Cioè tu prima o poi vuoi che ti metto davvero le mani addosso Va bene che noi facciamo gli spot e non provateci a casa contro la violenza e quant'altro Poi io oggi sono venuto a parlare di calcio, del derby, no? Guarda, maglietta, 2-0, Milito, Pandev, se vuoi posso anche parlare di football americano Posso parlare anche di come Schumacher non era tornato alla guida della Ferrari Perché aveva il mal di collo, invece non aveva la macchina competitiva Secondo me se vinceva il Milan veniva con la maglietta del Milan Ma non dire stupidaggini, per favore, eresia anatema Allora, in realtà io sono qua a parlare dell'appuntamento che ci sarà domenica notte 31 gennaio a partire dalle 2 su Sky prima fila con la grande Royal Rumble 2010 Che tu sai che cos'è, vero? Certamente O ti intendi solo di calcio? No, no, certamente Che cos'è? È una lotta in cui si ritrovano una trentina di persone Trentina, quaranta, no? Sono trenta Rista reale a trenta uomini Ognuno, tutti contro tutti, amici contro nemici Perché c'è un premio fondamentale Chi vince ha la possibilità di andare per un match titolato avreste il menu a 26 Che è come se fosse la finale di Champions League Però tu sai che noi su Sky Sport 2, su Sky Sport 2 HD Durante tutta la settimana abbiamo i programmi settimanali E stanotte, per esempio, a partire dalle 3 su Sky Sport 2 Ci sarà la diretta appunto di questo evento di Raw Mentre qui vedo che stanno andando anche tutte le grafiche appunto di tutti i nostri appuntamenti Ecco qua proprio le grafiche che si riferiscono Sia l'appuntamento in lingua originale nella notte a partire dalle 3 Domani sera invece martedì alle 20 sempre su Sky Sport 2 con il commento mio e di Michele Poi ci saranno anche altri appuntamenti lungo tutta la settimana Ecco qua l'appuntamento del grande Venerdì Wrestling Devi avere questa enfasi Angelo Ti devo insegnare il mestiere No, no, è vero Infatti tra l'altro dovresti prestarmi anche l'occhialetto per la conduzione Eh, l'occhialetto fa la sua sporca figura, no? Benissimo, allora ricordiamo l'appuntamento invece di questa qua Della lotta a 30, quello mi interessa Sì, è domenica notte 31 gennaio nella notte fra domenica e lunedì A partire dalle 2 la diretta Poi abbiamo le repliche da lunedì a giovedì alle 15, alle 18, alle 21 Il canale Sky Calcio 15, Sky Prima Fila Appuntamento con Luca Franchini dunque come sempre con il Wrestling Sì ma dopo torno io Torni ti aspetto con Vanessa Siamo qua, grazie, grazie Luca Grazie a voi Grazie tardi, tra pochissimo, nuova edizione alle 16